Camion a fuoco in autostrada all'altezza di Pesaro. Altri attacchi di fauna selvatica alle abitazioni. A Monza le marche siglano l'intesa per la conferenza delle regioni. Premiata la Pirandello che immagina la Pesaro del futuro. Da domani Cagli diventa la capitale della speleologia. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV. Ben ritrovati ad un nostro nuovo spazio informativo, quello di Rossini News, quello del nostro telegiornale della sera che in questa edizione di martedì 6 dicembre apriamo con la cronaca e in particolare con una ultima ora arrivataci davvero poco fa attraverso un video amatoriale inviatosi da un nostro telespettatore. Si tratta di un incidente fra due mezzi pesanti avvenuto in autostrada A14 in direzione nord a un chilometro dal casello di Pesaro. Dal filmato si vedono le fiamme che hanno avvolto uno dei due camion e al momento non abbiamo ulteriori informazioni ma vi daremo altri raguagli nei nostri prossimi spazi informativi. Intanto ringraziamo il nostro telespettatore ricordandovi il numero whatsapp dedicato per le segnalazioni 370-366-7210. Appena sei giorni fa vi abbiamo dato notizie all'interno del nostro telegiornale di un attacco di otto lupi o cani selvatici ad un'azienda agricola di Gradara ma a quanto pare simili attacchi continuano a ripetersi anche nella giornata odierna e anche in quella di ieri. Il tutto mentre gli enti di protezione animali invitano a evitare psicosi sconsiderate. Aprire il portone di casa e per due volte in due giorni consecutivi imbattersi davanti a cinque lupi che ti fissano minacciosamente mostrando i loro denti. Questo è quanto vissuto in poche ore tra lunedì pomeriggio e questa mattina da una donna residente a Cattabrighe ad un chilometro dal quartiere di Vismara. Un episodio simile che si ripete dopo quello avvenuto appena una settimana fa a Granarola di Gradara dove sempre una donna proprietaria di un'azienda agricola era stata avvicinata da un branco di otto lupi dai quali era riuscita a difendersi con un badile. E fortunatamente proprio come in quella vicenda la donna cerchiata nella sua abitazione di Cattabrighe è rimasta illesa ma a rimanere impresse nella sua mente non sono le ferite che avrebbe potuto riportare ma la paura ora di uscire di casa non sentendosi al sicuro. Naturalmente il lupo caccia per mangiare ed essendo un predatore a volte può avvicinarsi in aree antropizzate alla ricerca di cibo. Ed è quello che ha trovato in questa gita fuori porta avvenuta ieri pomeriggio attorno alle 14.10 e questa mattina alle 7.30. Eppure la donna che vive assieme al marito e ai due figli non possiede un allevamento ma solamente animali di compagnia che lascia liberi in giardino in quel luogo dal quale non trova più uno dei suoi gatti sparito in queste ore. Sparizione di animali che è stato vissuto nell'analogo modo dalla famiglia Mancini di Granarola che dopo l'assalto di otto lupi non ha più ritrovato nelle loro gabbie diversi polli. Ma se quella è una zona di campagna vicino ad un'area boschiva l'episodio di Cattabrighe è avvenuto in pieno centro abitato tra il traffico delle macchine, case e famiglie. Ed è proprio per la sicurezza delle famiglie che l'OIPA, l'Organizzazione Internazionale Protezione Animali, ha stilato un vademecum utile per chi abita in zone in cui può essere presente il lupo, che come viene da loro ricordato è una specie protetta dalla normativa nazionale e dell'UE e quindi non può essere né cacciato né ucciso. Evitare di lasciare resti di animali accanto alle case, tenere di notte gli animali domestici in luogo al chiuso, non lasciare rifiuti organici nelle letamaie e nelle vicinanze delle stalle. Questi sono solo alcuni dei punti sottolineati per evitare di attirare i lupi verso la propria abitazione, ma nel caso in cui si dovesse verificare un incontro visivo con il mammifero occorre parlare ad alta voce e agitare le braccia per allontanarlo e se il lupo è lontano restare in silenzio e non interferire e nel caso non bisogna seguire le sue tracce. Ma nonostante le linee guida da rispettare, gli abitanti chiedono una rapida presa di posizione da parte delle istituzioni per iniziare una gestione mirata e diversa di questa specie. Ed ora cambiamo argomento e cambiamo anche territorio perché con le nostre immagini andremo a Monza, al Festival delle Regioni, dove oggi anche le Marche, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno firmato l'intesa che istituzionalizza la Conferenza delle Regioni. La Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome va istituzionalizzata. Il suo ruolo di coordinamento e mediazione politica tra interessi territoriali e nazionali, ispirato alla collaborazione tra organi dello Stato, deve essere riconosciuto ufficialmente. E' quanto chiesto oggi da Regione e Provincie Autonome che hanno firmato l'intesa per conferire, dopo 40 anni dalla sua fondazione, una veste giuridica all'organismo. La cerimonia ufficiale si è svolta a Villa Reale di Monza davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'ambito del Festival delle Regioni che si è svolto ieri e oggi tra Milano e Monza. Il documento è un vero atto fondativo di questa nuova istituzionale firmato dai Presidenti di tutte le Regioni, compreso Francesco Acquaroli. Al netto di questo credo che sia anche importante oggi innescare un processo di riforma dello Stato che possa consentire ai territori di poter espletare al meglio le loro capacità di competitività e anche la loro capacità di sviluppo e dall'altra parte però mantenere ferma, unita, una visione integrale della nostra nazione. Uno Stato forte che riesce a dare anche maggiori risposte ai territori e anche maggiore capacità di mettere in condizioni questi territori di sviluppare, come dicevo prima. Quindi è sicuramente un'azione importante, un'occasione da ieri e oggi ci consente di fare un punto della situazione e anche di guardare a questa fase come una fase piena di opportunità non solo per il PNRR e la nuova programmazione europea ma per questo dibattito che può dare delle novità finalmente anche dal punto di vista istituzionale. Io spero veramente che col nuovo governo si possa ridare un impulso a questa fase di costruzione di una visione nuova dello Stato dove lo Stato possa cercare di comprendere tramite la semplificazione e della filiera istituzionale che possa appunto saper compiere fino in fondo la sfida del rilancio dell'Italia che ha bisogno sotto tanti punti di vista, quello infrastrutturale, quello sociale, quello economico, di risposte concrete. Ieri era la giornata mondiale della tutela del suolo e proprio oggi il Consiglio regionale delle Marche ha approvato la proposta di legge in materia urbanistica che proroga il 31 dicembre 2024 il divieto di nuove edificazioni da parte dei comuni. In particolare si stabilisce che non sono ammesse ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei comuni che non hanno completato per almeno il 75% l'edificazione delle aree esistenti con la stessa destinazione d'uso urbanistica. È prevista tuttavia che possano essere sempre adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili o al recupero di aree urbane degradate anche mediante strategie di rigenerazione urbana. L'azienda ospedaliera di Ancona ha vinto il premio di Agenas come miglior ospedale pubblico d'Italia assieme all'Humanitas Research Hospital di Rozzano in provincia di Milano. Secondo l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari i due ospedali sono le uniche strutture pubbliche ad aver ottenuto semaforo verde cioè valutazione alta per almeno 6 aree cliniche su 7 rispetto agli indicatori individuati dal programma nazionale esiti. Ed ora torniamo a Pesaro per occuparci di un caso di tribunale che riguarda il ristoratore nonché leader del movimento Io Apro Umberto Carriera un caso che ci riporta a questione legate ai tempi del lockdown da Covid-19. Aveva tenuto aperto a cena il suo ristorante La Grande Bellezza di Monbaroccio quando le regole imposte dal DPCM in tempo di lockdown lo impedivano. Sanzionato per non aver chiuso il locale in quel 15 gennaio 2021 nove mesi fa Umberto Carriera, ristoratore nonché leader del movimento Io Apro aveva vinto in sede di giudizio civile vedendosi annullare la multa di 800 euro e i 20 giorni di chiusura dell'esercizio. All'epoca il giudice motivò quelle chiusure oltre le ore 18 ingiustificate sul piano sanitario. Ora però la Corte d'Appello del Tribunale di Pesaro ha ribaltato la situazione dopo che la Prefettura ha impugnato la decisione contro la disapplicazione del DPCM condannando a sua volta Carriera a pagare le sanzioni pregresse. Carriera incassa il pronunciamento ma non ci sta e attraverso i social ha ribadito di andare in cassazione non per una questione economica ma di principio e dignità additando il ribaltamento della sentenza su una decisione presa per soli fini politici. La cena di quelle 15 gennaio 2021 alla quale partecipò anche Vittorio Sgarbi ha però aperto un'altra questione di battuta in tribunale quella che ha visto Carriera querelato per diffamazione dal dirigente della squadra mobile della polizia di Pesaro Paolo Badioli agenti di polizia che durante le operazioni di controllo e sgombro del locale furono filmati col telefonino dalla compagna di Carriera Clarissa Rosselli. Un video poi postato sui social che produsse commenti che degenerarono in toni tutt'altro che lusinghieri per le forze dell'ordine. Il poliziotto denunciò sostenendo che quel video fosse tagliato e ricucito ad arte. Ieri però il perito nominato dal giudice ha detto che il video non ha subito modifiche. Un'altra partita che avrà il fischio finale nella prossima udienza del 6 marzo. E questa mattina le nostre telecamere si sono accese alla scuola Pirandello di Pesaro un istituto che si è classificato al primo posto nazionale in un importante concorso di cittadinanza attiva destinato a pensare le smart city del futuro. Una gratificazione che è stata celebrata dallo stesso comune di Pesaro che ha applaudito come questi studenti della scuola media abbiano immaginato la Pesaro del 2032. Ci troviamo all'istituto comprensivo Pirandello di Pesaro un istituto che nelle scorse settimane ha vinto il primo premio a livello nazionale per un percorso di cittadinanza attiva molto particolare quello di immaginarsi una città del futuro. Alla Pirandello si sono immaginati la Pesaro del 2032 una Pesaro tra dieci anni se lo sono immaginati talmente bene da essere arrivati primi in questo concorso a livello nazionale. Un percorso effettuato a livello di tecnologia innovativa quella molto particolare di un videogioco Minecraft applicato alla costruzione appunto della Pesaro 2032. Questo è un esempio di come possa essere utilizzato in maniera educata e utile anche per sviluppare il concetto di cittadinanza l'uso delle nuove tecnologie l'uso addirittura di un prodotto come Minecraft education ai fini didattici attraversando in tutti i suoi valori il loro blu, insomma l'acqua con un discorso anche sulla sua storia sulla letteratura, sull'arte collegata a questo elemento naturale e con la proiezione, la ricostruzione quindi tramite questi mattoncini digitali di una Pesaro proiettata nel 2032 una parte che hanno sviluppato i ragazzi riguarda il centro mare poi c'è anche un riferimento alla zona del fiume Foglia San Bartolo hanno addirittura ricostruito una centrale idroelettrica per far capire le varie finalità i vari riutilizzi dell'acqua è una sorta di educazione all'uso consapevole di questo elemento con un percorso nella propria città proiettata in una smart city del futuro Con Barbara Pezzolesi, referente del progetto è stato il professor Andrea Della Martira che assieme a tanti altri docenti ha coordinato 31 alunni delle classi seconde e terze dell'anno scolastico 2021-2022 dando vita a un progetto che il 4 novembre è stato premiato negli studi di Cinecittà di Roma classificandosi primo su 200 elaborati che hanno preso parte al concorso nazionale educazione civica in Minecraft Tutti noi pensavamo di arrivare tra i primi dieci alla fine però ci hanno dato questa nuova sorpresa che è stupenda Ognuno ha fatto una parte e insieme le abbiamo unite e anche grazie a quello l'impegno soprattutto ognuno si faceva sia a casa sia a scuola soprattutto e è stato molto bello soprattutto bisogna anche divertirsi per queste cose se no non si fanno con voglia E' stata una bellissima esperienza anche perché ognuno ha fatto la sua parte e insieme siamo riusciti a creare un bel lavoro molto grande, molto dettagliato e quindi è stato molto bello arrivare in alto Per me è un onore dirigere questo istituto che continuamente ci conferma la qualità dell'eccellenza del livello di istruzione che c'è in questo istituto anche con tutti i premi che i ragazzi vincono attraverso i progetti crediamo molto nella progettualità per ampliare la nostra offerta formativa quest'anno in particolar modo stiamo mettendo in campo altre iniziative importanti e stiamo realizzando delle aule all'esterno con un progetto di educazione verde di EduGreen Ed oggi nella palestra dell'istituto sono arrivati anche l'assessore alla crescita Camilla Murge il presidente del consiglio comunale Marco Perugini a complimentarsi per lo splendido lavoro svolto che porta anche qualche ispirazione allo stesso comune di Pesero nell'immaginarsi la città tra dieci anni è stato bello anche vedere come trasformare alcuni edifici sfitti o in disuso della città in opere che possano riparlare al territorio attraverso l'immaginazione dei ragazzi una Pesero del 2032 una Pesero più verde, una Pesero più azzurra legata all'acqua, alle nuove tecnologie, alla sostenibilità che ci indica anche che la strada che stiamo intraprendendo sia la strada giusta in linea con quello che i ragazzi vorrebbero per il proprio futuro venerdì 9 dicembre torna DOP Cartoceto Benvenuto Olio Nuovo l'evento degustazione che si terrà all'interno degli spazi del Fano Center organizzato dal Consorzio Tutele e Valorizzazione dell'Olio Extravergine d'Oliva di Cartoceto un appuntamento che è volto alla presentazione e degustazione della nuova produzione oleare a 2022-2023 grazie alla collaborazione del gastronomo Otello Renzi verranno presentate le caratteristiche organolettiche e gustative dell'olio DOP di Cartoceto dopo la presentazione sarà poi possibile assaggiare l'olio DOP anche in abbinamento ai piatti del gustoso aperitivo preparato dagli allievi dell'Istituto Alberghiero di Piobbico e Fano si prepara al Carnevale 2023 e oggi nei capannuni di Viale Piceno i maestri carristi hanno presentato i bozzetti dei loro prossimi giganti di cartapesta si chiamano Come sarebbe stato il passato se il futuro fosse arrivato prima di Valeria Guerra Pop Connection di Luca Vassilic, The Dark Side Fifty di Matteo Angherà e piacevolissimo ovviamente di Giovanni Sorcinelli e Mauro Chiappa da Fano a Vallefoglia dove il sindaco Palmiero Ucchielli e il primo cittadino di Baronissi in provincia di Salerno Gianfranco Valente hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per realizzare attività congiunte di promozione e di scambio di esperienze delle rispettive iniziative natalizie ovvero del Betlemme a Talacchio e delle presepe del Ciliegio i due comuni danni infatti realizzano caratteristici presepe di stoffa divenuti nel tempo attrazioni turistiche di grande rilievo e l'accordo siglato è importante per coordinare e integrare tutte le opportunità che i due territori sono in grado di esprimere assieme e invece domani 7 dicembre a partire dalle 9 all'hotel Touring di Falconara si trarà il convegno finale del progetto AgriBioCons finanziato dal PSR Marche 2014-2020 nelle convegno i partner partecipanti al progetto presenteranno i risultati finali ottenuti da tre anni di prove in campo con l'obiettivo di mitigare il degrado dei suoli marchigiani tramite il trasferimento e l'adattamento del modello agricolo bioconservativo rigenerativo nei sistemi culturali marchigiani e in particolar modo sui seminativi in rotazione maggiormente presenti Ed ora ci occupiamo dell'associazione Radio Amatori Italiani che a Pesaro compie 50 anni un compleanno a cifra tonda che sarà celebrato anche con la creazione di un museo Con mezzo secolo sulle spalle la sezione di Pesaro dell'Ari l'associazione Radio Amatori Italiani festeggia il cinquantenario della sua fondazione ripercorrendo il passato che ne ha costituito la storia L'associazione, che conta una sessantina di iscritti nel Pesarese celebrerà il proprio compleanno l'8 di dicembre nella loro sede di Trebbia Antico dove oltre ad un momento istituzionale con dei riconoscimenti per i soci e i loro incarichi ricoperti in questi anni verrà inaugurato un museo della radio e degli strumenti di misura che sarà visitabile ogni venerdì di ogni mese I radio amatori sono degli sperimentatori prima di tutto che si dilettano all'esperimentazione di antenne propagazione, contatti radio ma sono anche presenti nella vita civile come protezione civile Ricordiamo che in caso di calamità i radio amatori sono sempre stati fondamentali nei primi 24-48 ore perché le comunicazioni tradizionali vengono a mancare e i radio amatori sono di nuova importanza fondamentale questo dobbiamo anche a un radio amatore che è stato Giuseppe Zamberletti che è stato in pratica lui l'artefice il fondatore della protezione civile in Italia lui era un radio amatore e ha voluto vivamente la presenza dei radio amatori nella protezione civile come sezione automaticamente insegniamo elettronica, radiotecnica per far prendere la patente a tutti chi ha intenzione di venire facciamo dei corsi purtroppo col covid siamo andati in internet e abbiamo trasmesso e da lì abbiamo avuto parecchi personaggi diciamo dell'Italia che si sono iscritti e hanno dato l'esame sotto a tutti i promossi sia nelle Marche Bassitalia sarebbe tanto per dire Abruzzo poi abbiamo avuto persone del Veneto abbiamo avuto persone lombarde faremo un incontro con tutti i soci e anche abbiamo invitato le autorità perciò avrà il presidente del comitato regionale dei radio amatori il responsabile della protezione civile regionale da domani la città di Cagli diventerà la capitale della speleologia con il festival risorgenze che richiamerà alle pendici del Catria esperti e appassionati del settore un appuntamento internazionale importante sostenuto anche dalla regione Marche che si terrà a Cagli dal 7 all'11 dicembre si parlerà di speleologia ci sarà proprio un raduno internazionale di persone che ruotano intorno a questo bellissimo mondo che si interconnette con il nostro territorio con i nostri monti non solo del Catra e Nerone ma di tutta la catena appenninica marchigiana quindi un importante evento per valorizzare e rilanciare i nostri territori avremo due ambienti tematici dove in uno parleremo soprattutto di climatologia quindi una tavola rotonda sui cambiamenti climatici dove interverranno professori universitari e idrogeologi mentre dall'altra parte parleremo delle nostre montagne ovvero sarà una sessione dedicata a tutte le esplorazioni e gli studi fatti compresi quelli meteoclimatici sul Monte Nerone da qui proseguiremo nelle giornate successive con il tema trainante che è le risorgenze quindi l'acqua avremo la presenza di Spellio Sub di fama mondiale come Gigi Casatti è stato anche insegnato dalla medaglia del Presidente della Repubblica per le sue attività in Spellio Subacquea e avremo la presenza di Rick Stanton Rick Stanton è quell'inglese che se vi ricordate nel 2018 partì dall'Inghilterra per portare fuori quei 13 ragazzini che erano rimasti in Thailandia quindi verrà e ci mostrerà delle immagini inedite e ci racconterà soprattutto le difficoltà che esistono nel salvare delle vite di ragazzini così piccoli all'interno di un ambiente così efferrato inoltre ci saranno visioni di documentari e film documentari in prima visione mondiale che hanno vinto i maggiori premi di speleologia film di speleologia e di montagna e il tutto alla sera è condito da un momento conviviale dove i vari gruppi afferenti alle varie regioni cucineranno i loro prodotti tipici e si conclude qui questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare da ciò che avviene subito dopo il nostro TG per chi ci segue nella prima edizione alle 20.10 infatti vedrete il nostro speciale dedicato alla presentazione del basso relievo prospettico della Pala del Bellini realizzato dalla sezione di Pesaro dell'Unione Italiana Cechi e Ipovedenti si trova ai musei civici questa importante installazione di arte inclusiva dedicata dunque ai non vedenti a seguire la prima serata delle 21.20 dedicata a noi dedicata al nostro quinto compleanno il quinto compleanno di Rossini TV in una festa che è stata celebrata presso il quartier generale delle nostre feste ovvero Casa Poderosa con tutte le immagini e le interviste che potrete rivedere appunto questa sera alle 21.20 e poi l'informazione di Rossini TV vi dà appuntamento domani alle 7.20 in diretta come ogni mattina dal lunedì al sabato con Buongiorno Rossini la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali e poco prima del nostro TG è andata in onda la prima puntata di Aspettando il Natale con Roberta questo nuovo programma che va in onda tutti i martedì e il giovedì alle 19 e che ci avvicina alle festività natalizie con tante curiosità dedicate ai più piccoli vi ricordiamo anche le repliche quelle di domani e di venerdì alle 17 e quelle anche del sabato e la domenica alle 12 alle 18.45 ricordandovi anche che le prime edizioni delle puntate vanno in onda il martedì e il giovedì alle 19 e facciamo un passo avanti anche la prima serata di domani quella di mercoledì 7 dicembre perché alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata la quarta di ci inviti a cena con i nostri Nicoletta Tagliabracci e Paolo Pagnini che saranno a cena a casa di Anna e Gigi due nostri telespettatori e pesaresi per confezionare questa nuova puntata di questo nostro programma davvero da non perdere come detto appuntamento domani sera alle 21.20 e invece davvero tutto per questa sera per quello che riguarda questa edizione di Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi